Ecco, il PD non ha una persona che incarni il messaggio che io le sto dicendo. Dicendo, porta l'azienda dove vuoi, fai quello che vuoi, licenza se vuoi licenziare, però alla fine mi devi rendere conto della nave più lenta del convoglio, perché altrimenti sei Trump. Il quale Trump, dell'operaio del miniatore del West Virginia, o dell'operaio dell'Indiano, se ne strafotte! Cioè, il signor Trump non ha mai costruito niente di serio, è uno speculatore edile, è uno che si fa pagare per mettere il proprio nome a caratteri di bronzo alti 10 metri sugli edifici, è uno che ha lasciato con il culo per terra migliaia di operai che avevano lavorato per lui e lui faceva fallimento così non doveva pagarli, perché la vera motivazione, mi perdoni, lei dice delle cose giuste, non è l'operaio che ha perduto il lavoro perché le lavastoviglie le fanno in Vietnam anziché farle in Pensilvania, è il terrore di perdere il proprio status sociale. L'operaio, la classe media, aveva uno status sociale in America, come anche qui per un certo periodo, si considerava classe media, si considerava parte di un'America migliore, adesso lo vede perdere, lo vede sfuggire e con chi se la prende? Se la prende con le grandi industrie? Se la prende con le grandi banche? Se la prende con gli immigrati? La chiave del successo di Trump è dire il tuo status sociale è minacciato dall'afflusso di questa gente che ti porta via la seggiola da sotto il sedere. Se riusciamo a chiudere quello, tutto ne deve essere l'operaio dell'America degli anni 50. La forza dell'America deve essere stata una potenza globale, non autarchica, è qui l'antistoricità di Donald Trump. Chiedo scusa se ho parlato troppo a lungo. Proviamo a prendere un'altra domanda.